Dal 1 al 4 dicembre, alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, vota Savienza in movimento. Potrai votare presso qualsiasi seggio elettorale, in città universitaria o presso le sedi distaccate. Ricorda di portare con te un documento di riconoscimento valido. Da quest'anno la votazione è elettronica, ossia avviene tramite PC. Al seggio ti verranno fornite le credenziali di accesso al sistema di voto elettronico e ti verrà indicata la postazione da cui votare. Una volta il PC, inserisci i tuoi dati di accesso, username e password, poi clicca su OK e quindi su Conferma e Accetto. Apparirà una schermata con l'elenco delle schede elettorali così elencate Consiglio di amministrazione dell'università, Senato accademico dell'università, Comitato per lo sviluppo dello sport universitario, Comitato territoriale della DISU Roma 1 e Assemblea di Facoltà. Seleziona la scheda elettorale e clicca Vota. Seleziona Sapienza in movimento e clicca Vota lista. Seleziona il candidato e clicca Vota candidato. Per confermare il tuo voto, clicca e inserisci la scheda nell'urna. Ripeti le stesse operazioni per tutte le schede elettorali disponibili, poi la differenza dal 1 al 4 dicembre Vota Sapienza in movimento. A presto!